ok allora auguri di nuovo e terza lezione ciao alessandro auguri anche a te e dunque quindi avevamo cominciato a fare gli sciami elettromagnetici quindi tornare un attimo sullo sciami elettromagnetico e su come funzionano i rivelatori a calorimetro elettromagnetico e poi facciamo la retezione cernico di transizione e fatto quello direi che non so se ci mettiamo un'ora e mezzo o qualcosa di meno e poi la prossima volta faremo la parte più di cominciamo la parte d'astronautica così alterniamo un po' allora se ti ricordi tutto si giocava sulla x con zero cioè la lunghezza di radiazione cioè la distanza tipica nella quale un gamma o ti da una coppia elettrone positrone o sia l'elettrone che il positrone ti danno per ben strano un gamma e quindi c'è questa ogni x con zero poi idealmente costruiti questo modello semplificato ma poi manco tanto sbagliato per cui raddoppi il numero di particelle e c'è sempre più particelle quindi appunto c'è questo coefficiente di alternazione lineare degli elettroni per ben strano cioè loro perdono uno sui mi pare dell'energia ogni x con zero oppure mettono il fotone e quindi alla fine c'è un picco con tantissime particelle poi diminuiscono quindi ne hai due la n quando hai n lunghezze di radiazione e poi c'è un massimo che è legato alla funzione gamma di olero l'energia critica c'è tutto questo processo essenzialmente va avanti fino a che si raggiunge l'energia critica per gli elettroni ad esempio dipende ovviamente dal materiale però essenzialmente è l'energia alla quale la ionizzazione dipende da che parte lo vedi o la ionizzazione diventa trascurabile rispetto alla brent stralung e quindi sopra l'energia critica hai l'emissione del fotone per ben stralung o viceversa se tu c'è lo sciamo e elettroni che sempre con uno su due la n energi di energia e quindi hai sempre l'energia fino a sotto a che questi non vanno sotto l'energia critica e quindi non hai più non hai più missione di brent stralung allora ciao gillis allora vabbè rossi la 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 semplificava dicendo che la missione di brent stralung andava come se fa il conto bene cambia di pochi ma insomma la sostanza che per esempio nel caso del rame che ha la x con 0 12 86 grammi per centimetro cubo ciao david quindi ti ricordo grammi per scusa per centimetro quadro perché se dimoltivi per rho hai i centimetri e quindi è una lunghezza perché essenzialmente più o meno in prima approssimazione va tutto con se dividi per rho è tutto più o meno uguale e questa è la tua dende x moltiplicata per la x con 0 quindi va normalizzata anche in questo caso e questa è la probabilità di interagire del dell'elettrone quindi che succede se lo vedi in termini di materiale di nuovo questa energia critica per il materiale essenzialmente va come uno su su z cioè via via che cresce il lo z del materiale quello che succede che hai una una probabilità di un'energia critica che è sempre più bassa e anche qua non è che ci stupiamo più di tanto perché essenzialmente quello che vuol dire che interagisci con più elettroni elettroni atomici quindi c'è sempre più hai sempre più probabilità di 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 dare brendstralung quindi vedi qui quindi c'hai dall'idrogeno fino al ferro e ai transferrici se un se un solido c'è questa parametrizazione se è un gas c'è quest'altra ma sostanza va come uno su z insomma questa è la se uno proprio se lo deve ricordare ma come uno su z questo l'avevamo visto l'altra volta è una tdc time projection chamber essenzialmente è molto simile alle vecchie foto degli sciami proprio degli sciami elettromagnetici e quindi quello che vedi che parti con una qui almeno in questa foto non hai solo un'informazione topologica cioè non hai l'energia rilasciata non so se poi loro immagazzinano anche l'energia rilasciata però quello che vede che qui via via parti da uno ce n'hai di più di particelle poi c'è questo sciame che si allarga trasversalmente in virtù del multiple scattering che c'hai con gli elettroni atomici e via via che produci elettroni e positroni quelli si allontano dopodiché di nuovo in prima approssimazione quello che uno può dire è che la tutti gli elettroni sono minimum ionizing sono relativistici più o meno rilasciano la stessa quantità ma in realtà non è proprio così ci sono tutta una serie di sottigliezze che poi quando va a fare il conto veramente ne tieni conto per discriminare le particelle questo di nuovo tanto per farlo vedere l'ultima volta questa è credo che sia una simulazione però di uno sciame atmosferico vedi qui stiamo parlando di chilometri e qui stiamo parlando di metri perché essenzialmente in questo caso quello che tu vuoi fare è sono studi di particelle di tragico invece di alta energia o di ultra alta energia nell'atmosfera quindi il tuo calorimetro il tuo materiale lo sciamatore è l'atmosfera stessa vabbè quindi se fai la simulazione già vedi che anche nell'aria un gamma che poi ti dà la famosa coppia elettrono e positrono e poi la cascata è molto più compatto della cascata dronica cioè se un protone colpisce ti dà dei secondari con un ampio movimento trasverso perché colpiscono il nucleo quelli quindi possono avere anche per conservazione del quadrimpulso possono avere un momento trasverso molto più alto poi magari questa qui vedi questa qui è una cascata elettromagnetica e queste forse sono anche cascata elettromagnetica ma essenzialmente sia la topologia che la struttura energetica che la forma dello sciamo è completamente differente dopodiché sugli ultra energy cosmic rays ci torneremo perché fondamentalmente quello che vuole fare Euso se tu che succede che se tu lo fai a terra tu puoi o vedere la luce emessa dalla fluorescenza e quindi vedi sostanzialmente lo sciamo adronico perché altre energie ci sono solo adroni nuclei o protoni ancora non è chiarissima sono una combinazione di nuclei e protoni e quindi vedi la luce di fluorescenza emessa dalla diseccitazione delle molecole di azoto dell'aria quindi la parte che ionizza di questo qui ti accita le molecole di azoto tu vedi un profilo di luminosità o e o se ti metti a terra vedi la parte dello sciame che arriva a terra e quindi di solito appunto se fai a torino viene fa puoi fare anche puntamento se riesce ad avere una energia abbastanza elevata e visto tutti felici e contenti viceversa se c'è il gamma e quello che puoi fare è vedere lo vedremo poco più avanti la luce cernikov dal gamma ossia poi questi oggetti qui essendo super luminali cioè vanno più veloci della luce nell'aria quindi emettono la luce cernikov e quindi poi quello che tu vedi proprio l'annello di luce cernikov più o meno coerente emesso da dalla parte di dei leptoni ovviamente per essere di parte e comunque perché lo conosco meglio col carino di pamela quello si faceva ossia il calorimetro era messo in fondo quindi qui stiamo parlando di un rivelatore dello spazio che studia fino al tev grosso modo un po' più del tev e vuole discriminare adroni da leptoni perché vuole misurare l'antimateria e quindi sapere sia quali sono i positroni rispetto agli elettroni ma essenzialmente qui la contaminazione diviene dai protoni che sono mille volte più abbondanti o gli antiprotoni rispetto agli elettroni che lì c'è un fattore un po' meno di mille ma insomma diciamo che mille anche lì quindi hai un tempo di volo che essenzialmente ti serve sia per dare la velocità delle particelle soprattutto però per reiettare quelle che vengono dal basso perché un antiparticella che viene dall'alto è come una particella viene dal basso nel campo magnetico quindi assolutamente quelle vanno buttate poi se anche l'informazione sullo z l'avevamo vista con la beta e blocchi la ca e la velocità fa bene male non fa la precisione della dell'impulso ti viene dallo spettrometro magnetico quello facciamo un'altra volta e poi appunto la discriminazione ti viene dal calorimetro la vedi che siccome ci sono i colori quello che ti dice che comunque hai la misurazione dell'energia perché poi ti ricordi sono gli stessi silici e gli stessi chip di altea e quindi tu hai l'energia rilasciata in altea in generale a parte gli scemetti che c'hai a parte gli scemetti che c'hai essenzialmente sono singole particelle di cui poi tu calcoli la ionizzazione dalla ionizzazione sai che nucleo è qui invece mille particelle che ti colpiscono la stessa cosa ciao vita no si sia buoni più veloci della luce ma nel mezzo cioè più veloci di c cioè di 300 mila km al secondo non va niente però della la velocità della luce in un mezzo è uno su n dove è nell'indice di diffrazione quindi nell'acqua è un terzo nell'aria un po di meno e quindi puoi avere velocità superiore alla luce in quel mezzo ma più veloce della luce nel vuoto che nessuno sappia no se lo sciame è più di più bassa energia ovviamente questo erano cento me jeff grosso modo 90 jeff questo è due jeff quindi un trentesimo quindi energia rilasciata grosso modo un trentesimo forse un po di più perché qui vedi che non è contenuto ne perdi un po in basso però lo sciame più piccolo c'è meno di distribuzione trasversale e quindi anche da qui riesce ad avere quello che si chiama energy momentum match cioè il confronto tra l'energia che ti viene dallo sciame elettromagnetico nel calorimetro che è l'energia e l'impulso che ti viene dal dalla curvatura della traiettoria nel campo magnetico anzi perché il campo di realtà misura la rigidità che ti ricordi impulso su carica quindi tu devi la carica da un'altra parte soprattutto per i nuclei e poi ha la velocità che ti viene dal tempo di volo meglio tu hai il tempo e quindi poi tu fai uno su t che è la velocità qui hai la rigidità quindi fai uno su r che è l'impulso e qui ha l'energia totale rilasciata quindi sono quantità differenti che non è ovvio che poi cioè coincidono tutte per protoni e tre cose normali però se vai a studiare cose esotiche o cerchi cose esotiche come la strange quark matter non è ovvio che poi le cose tornano devi tener conto che cosa vedi questo l'avevamo visto queste appunto se si dice che altè avvisi 50 mila volte questo è uno sciame che si sviluppa quindi se faccio solo la somma di energia rilasciata seguo questa distribuzione qua che da qualche parte dovrebbe messa eccola qua è la gamma c'entra dentro la gamma di eulero essenzialmente si può parametrizzare a e b sono parametri del calorimetro il campionamento e così via ma essenzialmente c'è questo andamento piccato con decrescita questa è una simulazione infatti vedi qui ti fa vedere sia gli elettroni che di solito tu riveli nel tuo calorimetro che il fotoni che non riveli ma che ti continuano a dare energia poi le due parti e secondari poi tutte e due gli sciami vanno a morire e quindi poi c'è sempre meno energie e quindi poi dipende quanto è profondo il tuo calorimetro questo è elettroni 30 jev sul ferro come ti avevo detto la la in pamela noi usavamo tungsteno e silicio perché il tungsteno massimizza la lunghezza di inter di radiazione cioè c'è tanta tante di questi di elettroni che sciamano ma minimizza quella interazione quindi ce n'è il meno possibile di protoni che sciamano questa pure l'avevamo vista va beh essenzialmente più va in alta energia più va per il frontamento e fino a là non è che ci vuole il monte carlo il monte carlo ti dice solo appunto te lo simula per bene tra l'altro ci sono vari monte carlo noi in generale usiamo geant perché è quello più prima era il 3 adesso è 4 è quello più omnicomprensivo però il gs4 è studiato apposta per simulare la sciame elettronico elettrone gamma poi ci sono quelli degli sciame atmosferici fluca anche fatto molto bene e fa bene le interazioni adroniche così via questo pure l'avevamo visto l'altra volta allora come si fa a usare nello spazio un calorimetro per fare discriminazione le toni da adroni quindi qui diamo per assunto che l'energia se un elettrone lo sai l'energia perché appunto se quello c'è un elettromagnetico se una drone non ti aiuta perché appunto un'interazione adronica può essere qualunque cosa poi colpire il neutrone il frutone produrre pi zero che si dà un pi zero quello esce secco e magari non ti perdi due gamma e non ti perdi due sciame metronici quindi l'energia lasciamola perdere però vi voglio discriminare appunto se sono leptoni da adroni cioè elettroni e positroni e da protoni e antiprotoni quindi avevamo visto che se tu e senza l'ideale sarebbe che gli adroni andassero dritti senza interagire quindi da una traccia dritta e gli elettroni ti danno il tuo sciame elettromagnetico allora gli elettroni danno sempre lo sciame elettromagnetico perché un processo statistico da cui non puoi scappare cioè dopo un x con zero il tuo elettrone ti dà un gamma un elettrone ce n'è sempre di più quindi sono talmente tante le particelle prodotte che dopo aver attraversato il primo piano di tungsteno è sicuro che ce n'hai abbastanza da darti il tuo sciame infatti eccolo qua dopodiché il problema qual è che tu potresti avere di nuovo anche questa interazione adronica non dà problemi perché in questo caso tu che cosa hai un protone o antiprotone tanto lo stesso che attraversa vari i primi piani non interagisce e poi dalla tua interazione adronica e quindi anche qua sei sicura che un'interazione adronica perché appunto i primi piani sono stati attraversati senza interazione cioè interazione di ionizzazione sì però è una singola mip di una singola particella relativistica infatti vedi c'è una traccia singola e poi c'è tutti i secondari quello che tu non vorresti è che l'interazione adronica venisse subito già nel primo piano o meglio al passaggio del primo strato di tungsteno e anche fosse metti che questa avvenisse subito la vedresti comunque perché comunque la topologia è molto più ampia cioè il profilo trasversale dello sciame è completamente differente però tu dici sì ma se per caso io ho un'interazione adronica talmente fetusa talmente disgraziata che che mi simula questo come faccio a tenere conto vabbè ne tieni conto col monte carlo nel senso che tu ti fai tutte le simulazioni che vuoi con tutti i monte carli che vuoi il monte carlo che vuoi e non si vede o comunque stimi la tua contaminazione in questo caso è rassolutamente trascurabile però tu dici sì vabbè ma metti che c'è una perché stiamo parlando di rapporto di flussi 1 a 1000 grosso modo quindi tu devi essere sicura che almeno stai all'1 per 10.000 perché altrimenti la contaminazione e il segnale sono 1 vabbè diciamo che il monte carlo è tutto sbagliato come faccio a tener conto di questa cosa qua allora quello che tu fai è che ti prendi un numero di piani due tre piani dividi il calorimetro in due parti prendi in due tre piani il tuo oggetto dopodiché vedi quante di queste particelle non interagiscono nel piano sopra e vedi tutte le interazioni adroniche che hai nella seconda parte del calorimetro quindi quello che fai è confrontare quindi fai finta come che i primi piani del calorimetro non ci fossero stati perché ai fini dell'interazione quella è solo un po' di ionizzazione non cambia niente e quindi confronti tutti gli sciami adronici che tu misuri con Pamela nella seconda parte del calorimetro con tutti gli sciami elettromagnetici che misuri con Pamela nella prima parte del calorimetro sei perplimuta sei perplessa cioè in altre parole quello che dici è supponiamo che il mio Monte Carlo e le mie simulazioni non siano affidabili o comunque non le voglio tener conto come faccio ad avere uno sciame che è sicuramente adronico beh mi prendo le prime due tre piani tutte le tracce che nei primi due tre piani del calorimetro non interagiscono adronicamente e che dopo mi danno un'interazione allora questa io sono sicuro che è una che è una drone perché appunto qui non mi ha interagito e qui mi dà un'interazione o meglio sono sicuro che non è un leptone mettiamola in questi altri termini dopodiché che cosa faccio quindi voglio confrontare questa interazione adronica con questa interazione elettromagnetica però in qualche maniera è come se fosse una selezione bayesiana ma in realtà è semplicemente una selezione in due parti io uso la prima parte del calorimetro per selezionare lo sciame adronico ed è questo qua per confrontarlo ovviamente lo devo confrontare con un calorimetro che è un po' più corto quindi devo rimuovere questa parte bassa del rivelatore e quindi confronto questa parte bassa del ladrone con la parte alta perché sono tutti piani uguali e dopo di che cerco di vedere quanto riesco a confrontare questi due oggetti ora qui dentro ci sarà anche il campione di sciame elettromagnetico farlocco che non vorrei che ci fosse non so che non c'è ma voglio essere sicuro che non ci sia e quindi vado a fare l'analisi sia topologica cioè sulla struttura dello sciame che energetica cioè proprio sull'energia rilasciata nel calorimetro quindi quello che succede è che appunto vedi mi seleziono il proprio questa ripetizione di quello là mi prendo la traccia dritta seleziono e prendo lo sciame elettromagnetico da quello e quello adronico dopodiché che cosa faccio? faccio tutta una serie di selezione perché appunto tu per ogni selezione che fai tu hai sempre una efficienza di selezione della tua traccia e una contaminazione da quello che è il tuo background quindi ne metti tutte insieme se sono scorrellate c'è P1 per P2 per P3 per P4 per questo tu vuoi due rivelatori più possibili e differenti come principio perché a quel punto fai la moltiplicazione secca se hai allo stesso calorimetro devi stare attenta perché ci sono correlazioni quindi dei fai conti fatti per bene però in questo caso per esempio tu che cosa usi come parametro discriminante? la frazione di energia rilasciata lungo la traccia del calorimetro sinistra destra cioè lungo la traccia e sinistra destra quindi un super raggio di moliere cioè la parte più compatta del tuo sciame e quindi se tu fai la tua traccia che cosa hai? scusa l'energia lungo la traccia che cosa hai? hai che di nuovo il magneto ti dice se il segno della carica è negativo o positivo quindi hai un campione di elettroni e antiprotoni e un campione di positroni e protoni allora attenzione che qua vabbè a parte questi sono 140.000 eventi la parte non interagente la vedi è questa qui è tutto questo picco qui dove c'è uno perché essenzialmente se non c'è stata un'interazione quello che succede è che il tuo protone rilascia tutta l'energia nella parte centrale quindi U è 1 la percentuale di energia rilasciata lungo la traccia lo stesso lo fanno gli antiprotoni che sono però molti di meno in proporzione agli elettroni per cui vedi eccoli qua dopodiché più o meno qui non si vede la statistica però se fai i conti fatti bene si vede poi c'ha gli scenatronici vedi lo scenatronico è tutto può essere perché può uscire tutto poi c'è un pezzo può uscire quindi c'hai tutta questa cosa di sciame adronici che è spaparanzata ossia distribuita lungo tutte le distribuzioni fino addirittura a zero perché poi quello magari esce completamente dalla traccia iniziale c'ha scattering adronico e se ne va da un'altra a marte e questo è meglio visibile nel caso appunto che tu vai a studiare lo sciame dei protoni vedi che c'è questa distribuzione in cui può esserci uno sciame compatto molto vicino alla traccia un qualcosa in mezzo che quello che io non voglio è questo qualcosa in mezzo che mi può simulare in base solo questo taglio perché poi l'italia ne mettiamo altri il positrone oppure sto con talmente con talmente tanta energia di profilo trasversale che sto fuori completamente dallo sciame elettromagnetico lo sciame elettromagnetico invece di nuovo lo posso parametrizare ma di nuovo anche se non volessi prendere il monte carlo vedi che gli elettroni si vede proprio la distribuzione degli elettroni molto piccata intorno a 0,05 qualcosa ovviamente qui dipende dall'energia e di nuovo io qui ho preso anzi della rigidità ho preso un campione di rigidità tra 20 e 30 giga volt se fosse più alta rigidità probabilmente la distribuzione adronica non cambia molto ma l'elettrone aumenta l'energia il raggio di moliere si dovrebbe allargare con l'energia e quindi dovrebbe spostarsi verso numeri più alti quindi io questo lo faccio per tutte le mie fette dei miei campionamenti dell'energia allora che faccio? vabbè faccio il mio fit seleziono la traccia verifico faccio l'energy momentum match cioè io dico vabbè prendiamo tutta l'energia rilasciata in tutto il calorimetro deve essere compatibile con quella che mi aspetto da 30 giga volt che sono 30 GeV per leptoni 29 un po' di meno ci si toglie nella massa di riposo del protone che è un GeV nel caso di quegli altri e quindi vedi che ti sparisce tutta la roba a frazione di energia elevata perché appunto non torna che ti rilasci troppo poco per avere l'energia se sei un oggetto da 30 GeV che ha interagito mi devi rilasciare più o meno 30 GeV nel calorimetro e quindi questi qui che hai colpito una sola frazione di energia rilasciano una MIP quindi siamo a energie completamente differenti e già vedi che quindi i tuoi antiprotoni che sono un segnale che ti interessa ma in questo caso non mi interessa vedi che sono quasi tutti spariti i protoni sono spariti tutti questi qui e comincia a saltar fuori il picco degli elettroni e grazie al cielo salta fuori proprio dove sta il picco degli elettroni positivi e salta fuori proprio dove sta il picco degli elettroni essenzialmente allo stesso punto perché lo sciame elettromagnetico di nuovo è lo stesso quindi che ci aggiungiamo? ci aggiungiamo anche la partenza del profilo longitudinale dello sciame cioè di nuovo quello che ti ho detto prima cioè lo sciame elettromagnetico deve cominciare da subito non deve cominciare da dopo anche nel calorimetro accorciato se io ho delle tracce dritte dopodiché non lo scarto perché deve cominciare da subito allora se comincia da subito vedi che sono spariti quasi tutti i protoni è rimasta questa microscopica coda qui è microscopica insomma si vede però è misurabile e in termini statistici è trascurabile rispetto agli elettroni e quindi io dai e dai riesco a tener sotto controllo la contaminazione del campione di protoni che pure partivano mille volte più abbondanti rispetto ai positroni eccoli qua dopodiché quello che può anche cambiare l'energia in questo caso si può fare anche un'altra selezione indipendente col neutron detector il neutron detector è un rivelatore indomina un po' di neutroni che sta sul fondo e quindi se misura dei neutroni quelli vengono quasi sempre dallo scenatronico è rarissimo che ci sia la foto fissione del nucleo da parte di leptoni che ti danno neutroni sì ci può essere ma insomma eccola qua vedi number of detected neutron è o zero è una poassoniana anche là non è che scappi è o zero nel caso degli elettroni o dei positroni può essere uno due tre o quattro ma insomma è completamente differente allora vedi che se usassi solo il neutron detector non potrei fare discriminazione leptoni e positroni protoni ad esempio perché le due distribuzioni sono talmente sovrapposte che già qua mi avrebbe solo questa qui se moltiplichi per 1.000 è 40.000 rispetto al 100 quindi sei completamente sepolta però questo campione di protoni puliti o di positroni puliti rispetto ai protoni è quello che mi permette poi di andare a selezionare i positroni io posso anche non mettere dei dettagli troppo stringenti o meglio è anche bello tenere far variare il taglio in maniera da far variare la contaminazione così sono sicuro che la sistematica della contaminazione è sotto controllo cioè perché sennò magari io qui c'erano talmente pochi che mi posso sbagliare e dire vabbè è il 3% ma magari per qualche motivo in questo caso particolare viene il 3% in realtà è il 10% se io invece faccio variare la contaminazione vedo che al variare del taglio la cosa mi cambia in maniera graduale allora sono tranquillo che le cose sono sotto controllo un'altra cosa che si può fare questo è tutto per far vedere che poi se tu hai lo strumento devi usare il più possibile l'informazione che hai anche Altea Altea è un calorimodo di se stesso non c'è l'assorbitore morto però hai il tempo di volo puoi farlo al beta puoi fare un sacco di cose questa cosa qui di nuovo ti ricordi la beta block ti ricordi la risalita logaritmica abbiamo detto quella tanto non serve a niente sono cose però in realtà non è vero non serve a niente non serve a niente quasi sempre perché se tu fai di nuovo selezioni la rigidità dal tracciatore e se tu fai la la distribuzione della perdita di energia tra protoni ed elettroni vedi che questa dell'elettrone è leggermente più alta e lo stesso per i positroni anche se qui non ci si capisce niente perché c'è il gamma dell'elettrone cioè a 10 15 giga a volte l'elettrone c'è gamma 1 da quel di da un meb e quindi rilascia un po' di più del protone che ancora non ha nella risalita relativistica è minimo ionizing e quindi riesce ad avere un ulteriore modo di selezione è chiaro che qui di nuovo queste sono completamente sovrapposte però se le unisci agli altri puoi avere una selezione indipendente per avere un campione di particelle che poi puoi selezionare e di nuovo poi anche qua puoi farlo perché in questo caso tu puoi prendere elettroni e protoni e vedere quant'è la contaminazione reciproca eccetera eccetera applicarla a positroni protoni o elettroni antiprotoni e quindi di nuovo applicarla nelle particelle che tu vuoi andare a selezionare ora vediamo un altro calorimetro che è quello di gamma essenzialmente ce ne sono tanti però quello più italiano è agile che ancora vola dopo tantissimi anni ed è fatto per fare raggi gamma quindi non particelle cariche e quindi che cosa la cosa essenziale se vuoi fare raggi gamma nello spazio è l'anticoincidenza intorno al rivelatore l'anticoincidenza è un grosso scintillatore che sta tutto intorno e se tu hai un segnale di particella carica o non trigger oppure lo prendi taggando l'evento perché essenzialmente tu non vuoi segnale sull'anticoincidenza perché deve essere un gamma che entra e quindi non interagisce finché non ti dà la tua coppia elettrone-positrone ora devo dire che la coppia elettrone-positrone va beh interagisce via via si allontana qui il trucco è che l'angolo di produzione mi dà l'energia del gamma sia l'energia che la che la la direzione di provenienza la direzione di provenienza è fondamentale perché ovviamente tu con i gamma fai astronomia infatti si dice sempre che noi riusighiamo perché con i carichi poi fai uno spettro per particella qua ogni sorgente dice ho visto sta cosa ho visto quest'altra sorgente quella di ieri adesso è un po' diversa quindi fai una varia di articoli pace però quindi devi avere la pointing accuracy e ovviamente l'energia perché devi vedere l'energia quindi via via che aumenta l'energia l'apertura diminuisce perché si deve conservare il momento e poi lo vedi sia da questo che dai due sciami perché poi alla fine tu c'è questa la parte dello sciamatore in silicio c'è una un'ostia visto che siamo a Pasqua di tungsteno vedi 007 x con 0 per farlo sciamare e allontanare quasi subito e dopo di che questo si allontana poi arriva qui e c'è una x con 0 e mezzo di calorino di radiodoro di cesio e poi di nuovo altre barre quindi tu da qui sai l'energia dei due elettrone e positrone e quindi da questo riesci a sapere l'energia del gamma in partenza e di nuovo la puoi corroborare anche con l'allargamento della bifurcazione e quindi vabbè questo quello era il primissimo articolo credo di quando fu proposto Agile questo è un po' più aggiornato sul calorimetro di nuovo qui dipende se stai trattando elettroni o e positroni che di solito butti o gamma quindi questa qui è la tua anticonoscenza i tuoi piani il tuo calorimetro sotto vabbè di nuovo anche qua c'è tutta una simulazione che poi ti dà il tuo il tuo segnale fa tutto questo e alla fine della fiera cosa ottieni? ottieni il puntamento in posizione quindi qui vai e vedi da 10 a 300 MeV e quest'altra più compatta è da 300 MeV a un GeV quindi sempre perché poi c'è multiple scattering di elettroni e positroni quando l'energia è più bassa quelli hanno più scattering e quindi vedi che la tua point spread function cioè la risoluzione di un oggetto puntiforme è un po' peggiore o meglio è migliore a più alte energie perché appunto riesce vedi che è più piccola proprio questa è la vela Valsar e anche questo dipende dall'energia infatti vedi qui lui dice giustamente rivelato tra 23 e 40 gradi dalla normale perché anche lì più sta inclinato e peggio è dipende anche dall'angolo di incidenza anche perché tu pure con Agile no tu in qualche maniera osservi una grossa parte del cielo anche Glast che poi è stato lanciato fermi Glast lanciato dopo lo stesso principio più grande Glast però ti arriva una ricamba da tutte le parti e poi devi ricostruire le varie sorgenti ciao Alessandro dopodiché la risoluzione energetica vedi che anche qua peggiora il crescere dell'energia perché appunto sia la tua forchetta la tua biforcazione diventa più piccola ma soprattutto lo sciame va via via per non è più contenuto nel calorimetro che è molto piccolo e quindi Agile è molto più piccolo di Pamela e quindi vabbè ha un certo ma di nuovo qui stiamo parlando del dunque qui è del 50% qui c'è un 1,5% cioè 150% quindi sono numeri alti ma non enormi ti permettono comunque di avere una misurazione anche qui intorno al GEV e qualcosa di oltre adesso vediamo la radiazione Cerenkov che appunto richiama sia la domanda che le risposte nella chat allora se tu hai una particella che si muove più veloce della luce del mezzo quella emette luce perché essenzialmente è un'onda supersonica o superluminale ma insomma è come un'onda supersonica coerente ossia la radiazione di onda elettromagnetica che se sono subluminale si cancella qui si sommano i vari fronti d'onda e c'ho quest'angolo qua l'angolo teta è tanto più alto tanto più alta è la velocità e di nuovo anche qui perché si conserva il quadro impulso vedi che qui va come 1 su beta n è nell'indice di rifrazione quindi nell'acqua che è 1,33 c'è più emissioni di radiazione Cerenkov nell'area ce n'è di meno e c'è anche uno spettro che dipende da omega se assumi questo qui o quest'omega qui che è l'ampione di amabilità magnetica è 1 insomma fondamentalmente vedi che cresce al crescere di omega e poi c'è l'andamento di uno su questo è beta quadro uno su uno su beta quadro quindi più alta più stai sopra la soglia Cerenkov più alto e questo dovrebbe muoversi si si muove questo è preso tutto da Wikipedia perché poi alla fine no non si muove per niente perché non ti muovi vabbè vabbè vattela a vedere su Wikipedia che fa vedere appunto come la somma di tutte queste onde elettromagnetiche che si muove nel mezzo eccola eccola qua vedi perché essenzialmente sei talmente veloce che l'onda elettromagnetica non non ha il tempo di di annullarsi le creste dell'onda quindi si somma in maniera coerente e ti emette questa luce a un certo angolo la cosa figa è che appunto in funzione dell'angolo tu hai puoi misurare beta cioè se tu vedi un anello data la tua geometria del tuo rivelatore se tu c'è un anello che dunque se beta mi sbaglio sempre se è grande o piccolo comunque più beta è alto se beta è 1 è 1 su n come angolo di emissione se beta è 0,5 questo qui è un numero più alto e quindi il tetto è più alto giusto? mi sbaglio sempre però se parli col microfono messo non andiamo 2 su n se beta è 0,5 giusto? si quindi l'angolo diventa 2 su n quindi l'angolo è più alto si va bene quindi quello che succede questo qui a destra ovviamente è la centrale nucleare un reattore nucleare nell'acqua e c'è questa luce cernico blu bellissima perché appunto l'emissione qui è in funzione di omega qui è in funzione di lambda dipende come preferisci comunque fondamentalmente io preferisco il lambda cioè vedi che va tendi a emettere più luce sempre perché ci sono legato all'omega la quarta del rally scattering eccetera eccetera ma insomma tendi a mettere più luce verso il blu più sei veloce tra l'altro questa in realtà è l'emissione cernico nell'aria confrontata con l'emissione di background night sky background sempre se vuoi fare rivelatori cernico nell'aria e più sali in energia più ti sposti a sinistra cioè metti sempre più verso il blu violetto ma in generale è difficile che tu usi uno spettrometro per visorare questa cosa tu vedi la luce la conti indipendentemente dalla luce che viene emessa e guardi la topologia del tuo anello e questo appunto è quello dell'acqua questo qui è nell'aria e appunto poi c'è una soia sopra la quale non emetti più perché non riesce a mettere la radiazione ultravioletta comunque e dopo di che c'è sempre questa citata l'avevamo citata anche nella nella chat c'è qua che è rimasta addirittura il logo di fantascientifica spesso un po' aspetta ritorno e questo xkcd che essenzialmente dice che tu praticamente potresti tranquillamente fare il bagno nella 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 piscina di una città nucleare e probabilmente ti prendi anche meno radiazioni che fuori perché qui stai schermando le raggi cosmiche un minimo dopodichè se ti avvicini troppo alle barri lui fa la battura che te sparano e quindi muori è pericoloso perché te sparano se fai una cosa del genere però se ti avvicini troppo a qualche metro allora lì sì che c'hai la gran quantità di radiazione ma tutta la radiazione essendo gamma dell'ordine del MeV viene tutta assorbita appunto in questa regione vicino al nucleo e poi c'è solamente luce Cerenkov quindi sei assolutamente al sicuro appunto a parte il fatto che qualcuno ti spara e ti ammazzano dopodichè ecco come è fatto l'Air Cerenkov allora di solito questo è fatto per vedere anzi apparentemente sempre per vedere i gamma perché che tu vedi la luce Cerenkov di un elettrone si ci fa piacere vederla ma non serve assolutamente a niente perché gli elettroni sono particelle cariche quindi vengono dalla magnetosfera e quindi completamente non vedo assolutamente niente quello che io voglio è la luce emessa dal gamma il gamma che mi emette un elettrone che poi mi dà la solita cascata elettromagnetica tutte le particelle che sono superluminali nell'aria emettono con quest'angolo alfa e quindi emettono la mia luce Cerenkov e parliamo appunto la seconda dell'energia di oggetti grandi anche 400 metri perché appunto l'angolo si allarga sempre di più quindi tu fai tutta una serie di specchi ci sono tanti magic eccetera eccetera citiamo S che è quello che ha avuto ha rivoluzionato proprio questa astronomia notate vabbè questo è l'angolo dell'idiota però non è tanto idiota che loro si chiamano H.E.S.S. punto perché in onore di Victor S ma perché non potessero e nessuno potesse confondere o fare battute sceme come la mia appunto con Rudolf Hess ma questo è stato discusso perché appunto essendo un esperimento anche tedesco insomma questo no questo sì questo è lo scopertore dei raggi cosmici questo è il nazistone quadratico medio anzi anche un nazistone di alto calibro essenzialmente vedi che hanno questi specchi innanzitutto sono specchi di grandezza differente perché può vedere luce Cerenkov di grandezza differente e energia differente quindi essenzialmente ognuno di questi ha un telescopio differente non che io sappia però non mi posso sbagliare non credo che loro vedano che loro vedano in maniera congiunta hanno proprio una suite di vari rivelatori che vedono gli oggetti in maniera di ognuno vede le sue sorgenti ed ecco qua questa è la luce Cerenkov che tu hai quindi quindi questa qui è la luce Cerenkov eh sia Alessandro Circosino aumenta l'angolo diminuisce può essere detto il contrario eh mi posso essere sbagliato infatti in realtà sì è giusto perché in realtà di nuovo si conserva il momento e deve essere più in alto la dico sempre al contrario grazie mettiamola pure qua così sta ai vostri allora l'angolo quindi vedi questo qui è l'anello Cerenkov perché la tua radiazione emessa dal tuo sciame elettromagnetico iniziato dal gamma e che si propaga nell'atmosfera però l'altezza è quella l'atmosfera è quella può compensare se c'è alta bassa pressione eccetera eccetera ma questo è il tuo anello i tuoi rivelatori sono esagonali vedi questi qui è uno degli specchi dei telescopi di questi qua e quindi tu anche dalla luminosità ma soprattutto dalla grandezza dell'anello riesci a sapere innanzitutto da dove viene il gamma perché è al centro è fino a là anche se l'anello è completo addirittura riesce a vedere anche se sono inclinati eccetera eccetera e soprattutto a discriminarlo dalle particelle cariche quindi questo è un mu che ti ionizza l'aria oppure ti colpisce anche vicino allo specchio ma insomma è completamente differente e perché questi sono infinitamente più abbondanti di questi anche qui ci sta un fattore mille o diecimila la luce dicono è poca vabbè ma questo è per tutti il segnale è poco se no sarebbe facile l'avrebbero già fatto 10 fotoni per metro quadro a 100 GeV di raggio gamma e il segnale dura nanosecondi quindi di solito riesci anche a vedere l'anello che si forma quindi è anche un'evoluzione temporale ma insomma già con questo riesci ad avere informazioni e come al solito più particelle hai e più scusa più informazioni hai e più ricco è il tuo segnale e più riesci appunto a definire in questo caso dove viene il gamma l'energia che ha e così via anche studiarne l'evoluzione infatti loro una decina di anni fa rivoluzionarono proprio l'astrofisica e l'astronomia gamma perché appunto riuscivano erano talmente grandi talmente tanti rivelatori che riuscivano a puntare varie sorgenti a studiarne l'evoluzione e quindi ci fu un ICRC dove presentarono tipo un po' 50 paper una cosa ma tutti interessanti insomma non è che era immondezza qui che c'è questa è la mappa dei raggi gamma al TEV nel centro galattico infatti loro stanno in Africa per vedere il centro galattico e questo credo che sia proprio il centro galattico infatti la sorgente in basso coincide con il centro galattico questa qui è la supernova remnant vabbè G09 più 01 e poi sovrapposto ci sono anche le emissioni radio allora anche qua vedi siccome per agile però sono scale differenti qui il calorimetro di nuovo è l'aria e qui usi il Cerenkov invece che la produzione di coppie sì ma non vedi la singola coppia vedi la luce Cerenkov dello sciame questa ti dà la point spread function e anche qua di nuovo se tu hai una point spread function molto buona riesci a fare imaging quindi vedi qui è un'altra supernova vabbè la gamma recount è tutta una serie di analisi qui fa uno smoothing con la gaussiana di tre arcominuti fa tutto quello che vuoi ma essenzialmente alla fine della fiera quello che vedi vedi che la struttura della shell della supernova il guscio della supernova che che si sta via via espandendo nel mezzo interstellare e la sovrappone in questo caso ai raggi X di Asuka e quindi tu vedi che i raggi gamma di alta energia più o meno provengono dalle stesse sorgenti di raggi X ma non proprio vedi qui c'è una sorgente che tu non hai questo è importante perché sul bordo proprio di queste shell delle supernove tu vuoi andare anche a vedere la i punti dove i raggi cosmici vengono accelerati perché appunto questo lo faremo più avanti l'accelerazione viene dall'accelerazione di fermi delle supernova viene dalla sul sul muro magnetico dell'onda d'urto della supernova perché fondamentalmente il muro magnetico il campo magnetico non ti può accelerare niente perché è conservativo però se il muro magnetico si muove se la particella si muove nella trasformata di Lorentz vede la componente elettrostatica del campo magnetico e quindi viene accelerata un minimo e quindi lì che fermi fece la teoria di accelerazione delle supernove ma lo faremo lo faremo dopo comunque qui tu risolvi le tue supernove dopodiché a più alta energia ancora c'è il rivelatore di transizione di radiazione che è un Cerenkov su steroidi essenzialmente nel senso che qui se nel Cerenkov tu hai la tua particella deve essere superluminale e finisce là qui tu hai un'emissione di raggi x essenzialmente quindi non non luce visibile ma raggi x quando passi tra transisci tra un elemento e l'altro perché essenzialmente la tua particella se la particella se lo vedi in termini se fosse un fotone che non emette TRD eh però se fosse un fotone tu ogni volta che passi da un mezzo all'altro c'hai da fare l'equazione di Max per conservare il campo elettromagnetico e così via e quindi c'hai una trasmessa di riflesso se la particella passa da un mezzo all'altro anche lì l'emissione di fotoni virtuali o reali e reali nel caso della GX subisce una discontinuità quindi ogni volta che tu passi da un mezzo all'altro essenzialmente non è zero non si conserva e c'hai un'emissione di radiazione allora se tu fai una singola interfaccia cioè un singolo strato quindi passi da anche fosse da silice a tungsteno però è trascurabile hai questo spettro qua questo viene da Particle Data Booklet che viene da un altro articolo che dovrebbe essere questo qui citato essenzialmente allora innanzitutto stiamo nei raggi X quindi andiamo da 1 a 100 keV e anche qui poi non è che vado a fare la spettroscopia dei raggi X emessi vado a contare se ci sono raggi X o no di solito è una cosa topologica e questa è l'emissione se vuoi proprio soffrire e farti del male fisico perché prendi il Jackson di quantum electronics e c'è tutto il conto si narra e perché nessuno l'ha affatto narra la leggenda che è nei libri degli antichi però se fai il conto ovviamente la gente che fa queste cose ti puoi calcolare l'emissione emessa di energia in funzione di omega piccolo che è la frequenza di emissione omega grande che è l'angolo di emissione e hai questa formula qua che vabbè a parte la geometria dipende da gamma questa è la cosa importante che dipende dal fattore di Lorenz mentre quell'altro il Cenecov dipende da beta il TRD funziona col fattore di Lorenz questa è una cosa fichizia a parte poi vabbè la omega la plasma frequency dipende dal materiale quindi poti scegli il tuo materiale che c'è però allora ricordiamoci solo beta e gamma perché quello che succede è che tu fondamentalmente non fai uno strato secco fai appunto queste cose qua ossia o fibre di carbonio o polimetacrimide foam schiuma polipropilene sembra che si scioglie lingua perché essenzialmente tu non ti interessa che la transizione sia coerente eccetera eccetera tu vuoi far passare il più possibile la tua particella carica tra materiali più più transizioni possibili in maniera da avere più raggi X possibile perché la probabilità comunque è bassa e comunque deve essere vuoto perché sennò poi quello mi emette sì il raggio X ma se l'assorbe subito perché ti ricordi che i raggi X quindi di solito deve essere un oggetto leggero anche perché così non c'è un materiale morto deve essere multistrato e quindi appunto usano queste schiume oppure le fibre di carbonio oppure fibre di questi materiali qua vabbè qui vedi che questi sono 500 micron il diametro delle fibre 25 micron insomma questa è la struttura che viene data utilizzata di solito anche qua presa da questo articolo qua allora qui la questione è vediamo il primo in funzione questa è l'energia dei raggi X emessa e la probabilità di emettere raggi X in che per meno uno insomma questi quanti raggi X vengono emessi allora il primo ti fa vedere che via via che il gamma di Lorentz aumenta quindi via via che aumenta l'energia aumenta l'emissione anche il picco ma essenzialmente vedi che parte col picco basso e poca emissione poi c'è anche la struttura bipiccata ma fondamentalmente ci frega niente il picco poi rimane più o meno stabile per un oggetto di 15 micron di 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 spessore e 300 micron di campionamento e 100 di questi questa è una simulazione non è che riescano a farsi misure così fatte così o scusa fatte così bene però poi alla fine fondamentalmente il picco di energia è intorno a 7 keV in questo caso e rimane costante quindi tu essenzialmente puoi dire boh senti se dovessi selezionare in base al gamma direi che per questo oggetto fatto così sopra 400 500 di gamma vedo un segnale sotto no quindi mi metto un rivelatore di raggi x che adesso vediamo come è fatto e mi metto intorno a 7 keV e quindi so dirti se la particella che io stavo studiando e dipende se sto a terra sull'acceleratore nello spazio e così via c'è a segnale o no e in generale ovviamente se è un leptone perché sempre là andiamo a finire questo serve per discriminare leptoni da droni che a parità di energia i leptoni hanno un gamma molto più alto e gli droni no ti ricordi che anche quando facciamo vedere la beta e block se fai beta gamma se vuoi ci possiamo fare un salto indietro dopodiché fissando il gamma a 3914 vedete perché ha preso sto numero pazzesco vabbè perché in realtà era doppio vabbè comunque no ma poi è la curva rossa sopra no? sì sì però esatto il gamma più alto no ma perché ha preso 3914 se avessi fatto la simulazione avrei messo 4000 non 3914 comunque questo qua mi sa che perché è il doppio di questo però perché questo comunque non si frega niente dopodiché qui che cosa stiamo variando? qui stiamo facendo variare teniamo fisso L2 che è lo spacing di questi assorbitori e variamo lo spessore dell'assorbitore e quindi abbiamo un assorbitore molto piccolo di 5 micro fino a 40 micro e vedi quello mi sposta l'emissione dei raggi X e quindi anche lì io posso costruirmi il mio oggetto se volessi farlo con proprio dei foglietti tipo sai il Mylar quello dei si usa sia per non far scaldare troppo o raffreddare troppo i rivelatori nello spazio ma anche sai quei fogli di Mylar da campeggio che stanno a tenerti caldo li puoi fare questo oggetto coerente di nuovo si usano incoerenti perché ce n'è molto di più però variando lo spessore vedi che varia l'emissione dei raggi X e la quantità di radiazione terzo posso tenere ferma la la L1 a 15 micron variare la L2 quindi variare il campionamento e vedi che in realtà qua più o meno è costante però il picco di emissione però c'è una distanza ideale sopra cui ho la massima di emissione di radiazione e quindi anche qua in base a queste simulazioni io mi studio il mio il mio rivelatore me lo me lo costruisco e appunto poi e ci faccio la discriminazione la discriminazione come ti dicevo prima funziona sulla base del Sinnoh cioè in generale topologica mentre sul Cherenkov dipende dall'anello l'energia rilasciata e così via tu che cosa hai? essenzialmente hai un rivelatore a gas multi-wire proportional chamber drift chamber poi ci sono anche gem questo addirittura credo sia preso da un articolo che fa le gem ma insomma fondamentalmente misuro la ionizzazione allora che succede? succede che se io ho un pione da un elettrone quindi il pione ha un gamma basso questo è a terra spazio di pioni non ci sono perché non c'è cioè il protone dovrebbe aver interagito vicino al rivelatore che cosa fa? mi passa il radiatore non emette luce eh di transizione di radiazione mi ionizza nel mio gas o nella regione di drift in questo caso è un rivelatore a stato solido quindi poi la mia carica va a finire qua ma se c'è una multi-wire la leggo via via che lui fa e quindi io ho solo una MIP o una carica lungo il mio segnale lungo la traccia del mio segnale della mia particella se ho un elettrone lui mi emette una transizione di radiazione in fotone vabbè uno o più fotoni che ovviamente prima di interagire nel gas si allontanano un po' poi sono X faranno interazioni di raggi X secondo il gas che ci ho messo però essenzialmente fanno fotoionizzazione e mi emettono un altro elettrone quell'altro elettrone che mi fotoionizzano mi da un segnale e magari anche più grande perché questi sono al minimo e quell'altro no mi da un segnale e io rivelo quest'altro segnale e e quindi qui c'ho più un segnale più basso e qui c'ho un segnale più alto e posso fare la discriminazione tanto per citarne uno sempre fatto in casa non da noi dai colleghi di Bari il derivato di transizione di radiazione di T.S. 93 tu probabilmente non eri in avanconata te possino e si e lo metti questo era un volo stratosferico su pallone e il nonno il papà di Pamela nel senso che hai sempre un derivato un campo magnetico in questo caso è generato da un magnete superconduttore nel caso di Pamela da un magnete permanente e perché comunque questo volava poche ore una ventina di ore al massimo 40 se sei fortunato Pamela è stato su 10 anni e quindi va a gas tu c'hai il tuo gas con le multi wire proportional chamber c'hai il tuo il tuo i tuoi i tuoi vassoi di di fibra che ti fa sciamare e ovviamente deve stare in cima perché non deve essere prima che ci siano qualunque interazione altrimenti i rischi lui ti interagisce nel TOEFL ad esempio vedi che anche qua come Pamela c'è il tempo di volo hai il tuo tracciatore a silicio e poi hai anzi forse il primissimo era la multi wire poi era il silicio e poi hai il tuo calorimetro quindi se si mette lo stesso principio però sopra c'era il TRD anche Pamela nel design originale ci doveva essere il TRD poi è stato tolto infatti questi sono il prototipo di Pamela delle transizioni di radiazione del TRD appunto qui anche qui hai il radiatore a fibre di carbonio vedi il protone va dritto per dritto e rilascia solo una MIP il positrone o elettrone mi emette gamma di transizione che mi fanno fotogenizzazione e mi emettono segnali di raggi X in questo caso erano questi strotube tubi a cannuccia fatti col capto ma fondamentalmente ci passa il gas e al centro vedi c'è una ci passa il gas in questi cilindri e qui c'è una tipo il contatore Geiger essenzialmente tanti contatori Geiger però visto che sono tanti faccio la la mia la mia reiezione e rivelazione però è topologico cioè sì no allora quello che succede quando è topologico è che tu essenzialmente dici sì vabbè però e di conto quanti c'è no e quindi misuro l'energia rilasciata e vedi che in generale il TRD non è che sia sta meraviglia perché ti dà un fattore di radiazione che è un fattore di 20 cioè tu hai vedi che anche per i positroni elettroni la probabilità che quelli emettano la transizione di radiazione non è elevatissima ma di nuovo perché tu comunque non è che lo puoi fare lungo un chilometro sta a fare deve essere piccolo deve essere compatto perché se lo fai anche lungo poi dopo il fattore geometrico insomma nello spazio sei molto limitato su acceleratore riesci a fare cose anche più fattori geometrici più elevati ma insomma essenzialmente questo ti dice che anche i leptoni possono non emettere transizione di radiazione però questi sì e quindi c'è una contaminazione efficienza queste sono le tipiche curve che fai in qualunque cosa anche in quelli che ti avevo fatto vedere prima di di come si chiama di del calorinetro di pamela hai sempre una curva efficienza contaminazione in cui tu essenzialmente tu vuoi avere una poi vabbè vari gamma perché via via che sali in energia è un gamma più alto e quindi il tuo rivelatore diventa via via migliore per esempio con un gamma il peggiore quello più basso hai con l'85 per cento di particelle che selezioni che sono queste qui hai il 5 per cento di particelle che ti contaminano questo è misurato su acceleratore quindi qui tu sai più che gli stai mandando c'è la contaminazione c'è la distribuzione sai tutto quindi alla fine ti viene fuori un fattore 20 di reiezione al 90 per cento di efficienza che di per sé da solo non basta però come campione completamente statisticamente completamente indipendente va più che bene perché di nuovo se l'avessimo messo su Pamela allora ti avrebbe dato il 20 per cento appunto questo fattore 20 di reiezione e ti avrebbe selezionato un campione puro o completamente indipendente dagli altri quindi potevi anche utilizzarlo per discriminare in realtà poi si era visto che non serviva poi il problema del gas cioè di questi rivelatori a gas che indovina un po' che vanno a gas e quindi il gas poi finisce e quindi poi tu dopo di che dopo tre anni ti ritrovavi con questo materiale morto in cima perché quindi non avevi più ionizzazione non avevi niente che ti faceva sciamare l'elettrone e ti faceva sbagliare la misura quindi alla fine non ci si è messo niente ci si è messo solo le anticoncidenze però intorno o meglio per quelle laterali e direi che questo è tutto allora direi che per oggi ci fermiamo a un'ora perché dalla prossima dovremo fare va bene per te giovedì alle due e mezzo? certo sì allora lasciamo giovedì alle due e mezzo come l'altra volta perché cominciamo a fare un po' di parte di spazio di orbita e così via quindi è inutile cominciarla a mezz'ora prima poi è pure Pasquetta allora io ringrazio chi ci ha seguito anche da casa di nuovo auguri tu rimani un attimo che parliamo un attimo e io chiudo la trasmissione ciao